Salve a tutti, oggi con me Filippo Gianin di tradingfacile.eu per parlare del Futsimib e di questo rimbalzo, se durerà, non durerà, insomma la volatilità è ancora protagonista. Allora, Filippo, cosa aspettarci per le prossime sedute? Sì, innanzitutto, ciao Rossana e bentrovata. Vado a condividere il grafico del Futsimib Future, così possiamo anche analizzare la situazione da un punto di vista grafico. Sì, beh, ci eravamo lasciati un paio di settimane fa, se non ricordo male, con il mercato che era approdato a quota 15.000 punti e quindi da qui avevamo ipotizzato, insomma essendo un livello supportivo particolarmente importante, avevamo ipotizzato come da qui potesse partire un recupero. In effetti il mercato da qui ha rimbalzato anche in maniera abbastanza vehemente, tenuto conto che, come detto più volte, la volatilità continua a mantenersi a livelli molto, molto alti e qui, da qui, c'erano tutte le raccomandazioni del caso, però in questo momento il mercato è arrivato a battere ad un livello particolarmente significativo in ottica di resistenza, a mio avviso, che è quota 17.000 punti. Perché? Perché non dobbiamo dimenticarci che, appunto come già detto la volta scorsa, i mercati in questo momento sono in una fase orso, quindi tutte le salite, tutti i rally, costituiscono occasione di vendita in ottica multi-day. Al massimo c'è la possibilità di operare in scalping, in intraday, per degli acquisti veloci, come detto, ho dettato più volte, non tanto da una fiducia nella ripresa del mercato, quanto piuttosto in una volontà degli operatori, come dire, che sono allettati dalla possibilità di acquistare in forte sconto alcuni titoli. Detto questo, però, c'è a quota 17.000 punti in questo momento una resistenza particolarmente significativa ed inoltre, se io vado a fare un'analisi anche su un time frame più breve, quindi un time frame orario, vedo che comunque sia a quota 17.000 punti incontriamo anche, il mercato sta incontrando anche alti volumi di scambio in area 17.000 punti e quindi qui, a mio avviso, secondo me ci sono avvisaglie del fatto che il mercato possa andare a stornare in questo momento. Io vedo difficoltà da parte del mercato a scambiare sopra quota 17.000 punti e quindi, ahimè, credo che dovremmo prepararci a nuove vendite. Detto questo, un paio di raccomandazioni. Innanzitutto, oggi è venerdì, sconsigliamo il mantenimento delle operazioni overnight, perché poi lunedì, insomma, con tutto quello che può succedere nel fine settimana, quindi tutte le notizie che potranno arrivare, magari ci saranno, come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, delle aperture in forte gap. Quindi, ecco, mi raccomando, sconsigliata il mantenimento delle operazioni in overnight. Secondo poi, per quanto riguarda i target della discesa, io mi aspetto che il mercato possa andare a ritestare quota 15.000 punti, però nulla toglie che, ripeto, il momento è particolarmente delicato, la volatilità è alta, non è escluso di assistere ad ulteriori crolli. Ecco, quindi mi raccomando, massima allerta, perché il mercato potrebbe tranquillamente fare dei minimi ancora più bassi rispetto al livello attuale. Perfetto, Filippo, io ti ringrazio per la panoramica, con te ci rivediamo la settimana prossima. Perfetto, grazie Rossana, arrivederci a tutti.